Questo trittico di tre video che ho riprodotto stamane, giorno 19 febbraio 2022, lo dedico ad una persona che altamente stimo e questa persona a cui ho inviato questo trittico sa che mi sto riferendo a lui, mi trovo in località La Folcara, Cassino, e da previsioni meteorologiche del canale weather.com che lavora in outsourcing per Google, quindi stiamo parlando di un canale ufficiale. Ebbene, qui a Cassino la visibilità è a 10 chilometri. Vi sembra questa la distanza? Ripeto, da previsioni weather.com, ore 9, 19 febbraio 2022. Qui siamo al rettorato dell'Università degli Studi di Cassino. La distanza è a 10 chilometri per quanto concerne la visibilità. Vi sembra? Lì c'è il campus. Io sto nel piazzale antistante il rettorato dell'Università. Quello è il campus universitario. Vi sembrano 10 chilometri? E quindi, ricollegando questo video al primo riprodotto nella piana di Venafro e al secondo riprodotto nei pressi di San Vittore del Lazio, San Pietro infine, San Vittore del Lazio, abbiamo chiuso il cerchio per l'ennesima volta. Buona domenica. Ah, post scriptum, post videum. Lì ci sarebbe stata l'abbazia di Monte Cassino, al di dietro del rettorato, nella parte retrostante il rettorato all'orizzonte. Si vede? Dove si vede? Ma dove si vede? È lì. La solita fabbrica che faccio vedere con la canna fumaria da qui, dal parcheggio del rettorato. Di nuovo buona domenica.